Yeah! Eccoci qua! Ciao per la terza ed ultima parte della trilogia sulle donne Sulle donne? Scusa, non ce la posso fare a star serio per questo video, ma io ci provo lo stesso Perché? In realtà sarebbe meglio intitolarlo Io senza donne Perché la festa è veramente finita, come dice il titolo, basta, non ne voglio più sapere Io mi sono rotto le scatole, niente, non ce la faccio oggi e non sono ubriaco, perché? Perché sto facendo il fioretto di carnevale Prima andiamo in controtendenza, facciamo le cose al contrario, come sempre nel mio caso Ho deciso di fare 30 giorni senza toccare una goccia di alcolici E quindi sono assolutamente perfettamente sobrio Questo sarà un video molto... questo sarà un video molto puccioso Guardate che bello qua Questo l'avete già visto altre volte, però ogni tanto lo tiro fuori Per ricordarmi da che cosa è partito tutto Questo è stato un regalo Questo è scritto Pensami Total Me Pensa È un buon consiglio Sempre e comunque Cosa ci faccio qui? Che cosa ho ancora da raccontarvi? Cosa vi devo ancora dire sulla mia vita sentimentale? Visto che non ce l'ho più Comportamento è un insegnante di antropologia, comportamento, psicologia, varie cose Abbiamo questo bel libro di 220 pagine che approfondisce a tutte le latitudini e in tutti i tempi Il significato è l'uso e l'abuso e la presenza della gelosia Che è un sentimento comune a tutte le persone Giovani, vecchi, orientali, occidentali, nordici, sudisti E... Ovunque È stata ovunque Non si può scappare da questa Quasi tutti ne patiscono, la provano E c'è quella sana Poi c'è quella che sfocia Nella psicosi, nella malattia mentale Fino agli omicidi, femminicidi, matricidi Per dire c'è stato di recente Un caso di una donna di bra Nei dintorni qui Che ha cercato di avvelenare il marito in più occasioni E i dottori ci hanno messo una vita a scoprirlo Perché è stata anche parecchio Subdola Cercando di avvelenarlo un po' per volta Somministrando gli medicinali sbagliati Finché non è stata colta in flagrante Grazie a delle telecamere Però questo è dato Questo librone mi è servito a capire Che dalla gelosia non si può sfuggire A meno di fregarsene Gli avvoltoi non sono gelosi Gli avvoltoi sono fedeli tutta la vita Gli uccelli proprio, intendo I mangiaccarogne La maggior parte dei mammiferi non lo è Non è fedele Però è gelosa Leoni Tigri Lupi Cani Gatti Maiali Mucche E purtroppo tra loro Ci sono sentimenti molto simili ai nostri Quindi Teniamo conto di questo fattore Poi cerchiamo di capire Che non ci sono solo gli uomini Che scrivono sui sentimenti Ma anche le donne E qui ce ne sono due Due libri che ho preso al volo Ma No in realtà ho tentennato un po' Ho detto Ma che cosa me ne faccio? Quando mai li leggerò? Perché infatti non li ho letti Né questo né questo Ma qui abbiamo Sherry Argoff Bellissimo la copertina Spiritoso e pieno di dritte intelligenti E un fantastico lifting per l'ego E per il cuore di tutte le donne Quindi consigliato Se lo trovate Leggetelo Magari vi può servire Dicevo Falli soffrire Sottotitolo Gli uomini preferiscono le stronze È vero? Statisticamente Forse sì Comincio a ridere Dai io non riesco a star serio Sotto argomento È una cosa che veramente Non mi riesce Io parlando di queste ultime Posso dire di averne frequentate Alcune nella mia vita È capitato Non so se le uno Se un uomo le preferisca Sicuramente esistono In giro ce ne sono Ragazzi Questo libro non serve solo alle donne Serve anche a noi Perché io Aprendo qui dentro Pagina 142 A caso Gli uomini dicono sempre Due punti Mi piacciono le donne Mi piacciono le donne Naturali Questo non ha niente a che vedere Con il trucco La tinta Naturale non significa Che vuole una vegetariana Che beve succo d'ortica O una donna Che usa lucida labbra Biodegradabile Significa che nel momento In cui qualcosa diventa eccessivo Lo respinge Perché la donna Si dà troppo da fare Per ottenere la sua attenzione Le leggi del fascino È strutturato Con una serie di leggi Sherry Argoff Vive a Los Angeles Scrittrice Commediografa Autrice di Self Help Oddio Il self help Auto aiuto Questa insegna Ad auto aiutarsi Libro divertente PM Tra l'altro edizione PM Cioè PM è quella della Piccolo Missionario Vabbè Comunque Grazie per le dritte Signorina Sherry Bel nome Tra l'altro Ce n'è un altro Che a voi donne Può servire A noi uomini Veramente poco Alexandra Hemisley Ex and the city Lasciata da lui E baciata dalla fortuna Questo invece È la serie di consigli Su cosa fare Quando il vostro ragazzo Fidanzato O marito Vi molla Oddio Rimanete da sole Cosa potrete mai fare Un sacco di cose Secondo l'autrice Ti ha mollata Non lo sai ancora Ma è fantastico Puoi tornare in pista Di nuovo Sì perché Ecco Questo è il concetto Puoi tornare in pista Perché è una gara E come per tutte le gare Nel wrestling Nel nuoto Nella maratona Nella corsa ostacoli Nell'equitazione Nel tennis Prendete lo sport Che volete Anche la caccia all'uomo È uno sport A quanto pare Per alcune Che cosa Comporta questo Che la gara È aperta a tutte Le prede Sono tante Ma le cacciatrici Anche Addirittura Pare che Per sta Statisticamente Siano di più Delle prede Perché una volta Che uno Di noi È preso Non è più In gioco Cioè Se la lepre E la volpe Sono state colpite Catturate Squaiate E portate a casa Dal cacciatore A Non ci sarà La stessa volpe Per il cacciatore B O hanno fatto Comunella Come si fa Con i cinghiali E sono andati A caccia Della stessa preda E poi se la dividono Oppure Chi primo arriva Si prende la preda E l'altro Dove cercarne un altro Quindi cosa succede Che man mano Che la caccia diventa lunga Sì è vero Che la popolazione Se andate sul sito World Population Questo è importante E interessante A prescindere Dal mio discorso Stupido di oggi Popolazione corrente Del mondo In aumento Non so se si vede bene Però Io cerco di farlo Anche se È sfocato Vedete il numero Che sale Progressivamente Ecco Quella è la differenza Tra i nati E i morti Siamo 7 miliardi 681 milioni E mezzo Più 4 mila E qualche Poi c'è qualche accelerazione Per cui ogni tanto Aumentano di più E altre volte Aumentano di meno Ma in ogni caso Aumenta la popolazione Di una Due persone al secondo Quindi le prede Considerando che la metà Meno della metà Di questi sono maschi Le altre sono donne Sono veramente tantissime Nella battuta di caccia Prendete per esempio Un branco di lupi Quelli che rimangono indietro E che devono essere serviti Sono gli anziani No? I lupi sdentati Le lupe sdentate Ma poverine E quindi Che succede? Che le prede diventano Sempre meno E bisogna accontentarsi Allora Anche se il sottoscritto Non è così Né giovane Né attraente E uno di quelli Che è tornato Sulla piazza Per quelle Che sono tornate Sulla piazza Secondo Versetto Della Bibbia Indossa il tuo nuovo stato Come una corona Avanza a testa alta Fiera E pronta a tutto Sembra una dichiarazione Di guerra No? Fieri E pronti a tutto Avanti Distruggiamoli Hai un attimo Di cedimento Pensa a Jennifer Aniston Lei è stata mollata Addirittura Da Brad Pitt Non è un buon esempio Quello di prendere I VIP Che fanno vite Che non sono standard Non sono come le nostre Non sono Nemai saranno Come le nostre Perché ci sono Dei giochi Diversi dietro Un po' come Peggio ancora Forse per i politici E per chi Ha Dei contatti Importanti Oppure Ha la possibilità Di incidere Sulle vite Di molte persone E sulle economie Addirittura Di interi paesi Lì non si parla più Di semplici dinamiche Uomo-donna Interagiscono E Si inseriscono Forzatamente Una serie di Fattori estranei Che non si riescono Ad ignorare E che certe volte La fanno da padrone Quindi Lasciate stare ragazzi Anche se Brad Pitt Ha mollato quella Non è detto che avesse ragione Non è il caso Di Ripuntare fino a lì Voglio dire Comunque È zaurito il discorso Libri Che possono servire E se entrate in una Feltrinelli In una Mondadori store Cercate Troverete sicuramente Uno scaffalone Pieno di manuali Utili In ambito Sentimentale E non Anche se Per la maggiore Si adopera Questo Siti di incontri Modi di dire Li andiamo a cercare Sì ma poi Magari Stiamo cercando una cosa Ti esce fuori La finestrella Con il sito Rosa Tal dei tali Che ti offre L'anima gemella Oppure l'incontro hot Ti dice che c'è una Che ti aspetta Un chilometro Da casa tua E questo è quello Che succede a me Che sono M Maschio no? Presumo Che ci sia una funzione Simile Anche per chi è F E quindi riceve Magari dei messaggi Un po' meno Scabrosi Un po' meno Grossi Come si dice in inglese Grossi con la y Veramente Cioè il mondo È diventato semplice Se uno vuole incontrarsi Nonostante tutto Il sottoscritto Sta ancora Sciolo Scioletto E rimarrà così Ancora per un bel po' Perché Ci sono Varie persone Che si preoccupano Della mia situazione Sentimentale Mannaggia Zuckerberg A quando l'ha inserita Nello stato Nella pagina Personale Situazione Sentimentale Un po' di tempo fa Parecchio tempo fa In realtà Ho fatto un profilo Su Ask.fm Un social Piuttosto semplice Quello che si basa Solo ed esclusivamente Sulle domande Almeno all'inizio Era solo così Adesso è già diventato Un po' più Infilare I sondaggi Si fa amicizia Quello forse Già da prima Comunque io non l'ho mai Considerato più di tanto L'ho usato per un 15 giorni Ho detto Boh Non serve a niente Lasciamo perdere Poi Visto che una serie di social Li ho dovuti abbandonare Vicissitudini poco belle 21 ore fa Mi hanno chiesto Foto in intimo? Mie? Non sono mica una bella figliola Non è che ho le serie di intimi Di Tezenis Calzedonia Che intimo posso avere io? Alcune interlocutrici Interlocutori Si stupiscono di quante Domande A sfondo sessuale O comunque sentimental Erotic Io ricevo Visto che Su altri social Mi hanno scritto Sei un cesso Fai schifo Ti odio Ti disprezzo Sei orribile Mi fai veramente Bip Hanno perfettamente Diritto Alla loro opinione Poi anche se non me la ripetono 20 volte alla settimana Va bene lo stesso Nonostante questo Ce ne sono altre Che si preoccupano E neanche poco Hai mai fatto sesso Con più di 20 donne In un giorno? Per un giorno Si intende un arco Di 24 ore Sarebbe più o meno Un po' meno Di una All'ora Cioè Ragazzi ma per chi Mi avete preso? Eh? Non sono mica una macchina Perché non fai un contest Su youtube Dove cerchi fidanzata Tipo Chi vuole si propone Poi tu scegli la possibile fidanzata Non mi pare proprio il caso Di fare una cosa del genere Un po' perché comunque Sono ancora bersagliato Da un determinato gruppo Di fans Che quando hanno occasione Di colpire Rompono le scatole Quindi meglio di no Non tanto per me Perché boh Sparate pure Il sottoscritto non muore Hai anche tu Degli schiavi O delle schiave? Ma Devo dire Mi piacerebbe avere Due o tre persone Al mio servizio Ma Dei semplici janitors Andrebbero bene Non c'è bisogno Di avere degli slaves E che cavolo Siamo mica Ai tempi dell'antico Egitto Comunque Se si parla di sex slaves No Non ne ho Mai avuti Anche se ammiro le persone Che decidono Di rendere la propria vita Più interessante In quel modo Perché è un Tipo di pratica Veramente Veramente impegnativo Non è facile vivere In quel modo Quindi È un po' come chi fa Volontariato E cerca di coordinarlo Con la propria vita Un po' come chi fa Il dungeon master Ecco Io non sono uno slave Però sono un master Ma non il master Che pensate voi Mi limito ai giochi di ruolo Di nuovo E anche quella È una cosa È una scelta Molto impegnativa Perché porta via Ore e ore e ore di tempo Ogni mese Di ogni anno Quindi non è stato Facile decidere Di rifarlo Il termine Dungeon master Ispira In certi ambiti Tutta una serie Di idee Per lo più Malsane Ma non è questo Il caso E si va avanti Ma di domande Io ne ho ricevute A migliaia Ho dato 2660 risposte Diciamo che un 20% Riguardano questi argomenti Comunque Per non tirarla Troppo per le lunghe Diciamo che Io continuo Per la mia strada Sono concentrato Su tantissime Cose Passate Ma soprattutto Presenti La festa è finita Perché Non c'è più tripa Per gatti Il sottoscritto È anzianotto Non c'ho più voglia Non ho più voglia Di Correre dietro Telefonare Aspettare Scarrozzare Offrire Ricevere Impegnarmi Ricordarmi Eccetera 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 La sfera Sentimentale Che compone Tutto quello Che è Poi Un rapporto A due In certi casi Anche a tre Quattro Cinque Ci sono Quelli E quelle Che comunque Non si limitano A una persona Sola È capitato anche a me Per un certo periodo Della mia vita Di avere Una Doppio impegno Eh sì Non per due giorni Sette mesi Sono stati E sono stati Sette mesi Piuttosto intensi E anche piuttosto tristi Difficili Perché per ogni gioia C'era una cosa brutta Quindi In certi casi Non era neanche Così bilanciato Per ogni gioia Ci potevano essere Due Tre Quattro Cose brutte Quindi Non lo rifarei Mai più Ma proprio Mai 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 Più Soprattutto perché La cosa che mi scoccia Di più Di quelle Situazioni È che in genere Non sono io Che decido Rimango succube Degli eventi Di queste tempeste Perfette Che prendono Si scontrano E generano La tromba d'aria E quindi Uno rimane lì preso Dalla tromba d'aria Questa d'aria Che gira E ti fa malissimo E quindi No Basta così Veramente È stato bello È stato divertente È stato brutto È stato inquietante È stato lungo Io tra l'altro Sono partito Tardissimo Con le Relazioni Sentimentali Con altre ragazze Rispetto ad altri Ai miei coetanei C'era chi a 18 anni Era già sposato Io ho aspettato Fino a 22 Prima di farmi prendere Perché ero impegnato Da Da altri interessi Siccome non ho mai avuto Questo grande successo Per quanto alcune La pensino Diversamente Mi sono dedicato Ad altri campi Ho lasciato stare Quello sentimentale Ho detto Concentriamoci Sullo studio E poi sul lavoro E sui viaggi E sul divertimento E sugli interessi Variegati Dal fai da te All'arte E Tantissime Mi diranno Ma guarda Che l'elenco Delle attività Che stai facendo È complementare A quello Che è L'ambito sentimentale Di un uomo Di una donna Nel corso della vita Avete ragione Però non è detto Che debba durare Tutta la vita Da quando uno Entra nella pubertà Fino a quando muore Può aver bisogno Di persone Al suo fianco Come no A un certo punto Uno si può anche rompere le scatole E io sono uno di quelli Quindi Da quel punto di vista Direi che proprio Ho già dato E quindi Partita chiusa Ripeto La festa È finita A un certo punto Della storia Che cosa è successo? Io sono rimasto Preda Non solo di donne Ma anche di uomini Ma perché Cavolo uno Come me Deve attirare Dei Ma Io non so come facciano le donne A baciare noi Perché abbiamo la barba Anche se ce la facciamo Io stamattina me la sono appena fatta Pungiamo Maledizione Da un fastidio Ma da un fastidio Veramente È una cosa che Non Non concepisco Se sei in un posto dove vai di solito Con persone che conosci Che di solito Non sono così E di brutto Prendono A un certo punto Il volta gabbana Il volta faccia Dolce gabbana Gabbana Dolce E ti infila la lingua in bocca Per sbaglio Per sbaglio tuo Ma non sbaglio loro Un pochettino rimani Poi appena realizzi Quello che sta succedendo Stacchi un attimo E dici Oh Lasciamo perdere Ne ho viste di molto peggio Cioè di persone Che Non l'hanno detto All'altro Che erano Maschi L'altro pensava Che quello fosse femmina E poi è stato informato Dopo Quindi lì le cose sono andate Molto più drastiche E' successo anche Di avere La ragazza Che è stata abbordata Da un'altra ragazza E quello è il momento In cui tutti pensano Ma dai Ma che fortuna Ficcati in mezzo Un accidente Perché le donne Tra loro Tendono A isolarsi un attimo Non vogliono Il terzo incomodo Soprattutto quando Quella con cui tu stai Tu stai parlando Con qualcuno Ti giri un attimo E te la vedi Completamente Avvinghiata Da un'altra Che praticamente Se la sta Un attimino Spupazzando Ma a fondo Lì sul divanetto Del posto dove sei Tu dici Ma che accidente Sta succedendo E soprattutto Che diavolo sta facendo Ma chi è quell'altra Da dove è uscita E tra l'altro Quando ti scocci tu E dici Smetteranno Dopo cinque minuti Che non smettono Dici Vabbè Andiamo a Staccarle E l'altra Si arrabbia La mia Vergognosa Che dici Oh scuso L'altra Si gira come dire Oh ma tu Ma che cazzo Dico Come cosa voglio io Cosa vuoi tu Chi sei Ti stai appropriando Cioè ti sei E' una situazione Veramente Che non so A quanti sia successo Però a me è successa Nemmeno solo una volta Più volte Comunque è stato divertente Ma non troppo Non riesco a raccontarvi tutto Perché altrimenti il video Diventa veramente troppo lungo Però Immaginatevi Che Ne sono capitate Di tutti i colori Comunque Le mie scenette Le ho fatte Le ho subite E' stato divertente Però Basta Almeno per un paio di anni Basta Il mondo nel frattempo E' cambiato Sembra che Tutto sia più semplice E intuitivo Domina Questa Hip hop Scena Totale Per cui Le donne Sono gelosissime Del proprio uomo Al quale combinano Di tutto E quest'uomo Deve essere fatto In una certa maniera Poi ci sono quelle Che si discostano Prendi Fishball Pollice super Fishball Se qualcuno La segue Veramente Io non mi Ci raccapezzolo Più In sto casino Quindi Non Non fa per me Questo mondo Mi tengo il mio Che non è male Perché comunque Anche fra I Quelli Il Tanta roba Dei 50 Che si stanno avvicinando Direi che Non sono così male Rimaniamo nel nostro ambito A voi giovani L'hip hop A noi Della Maggiore età Rimangono comunque Tutti Quegli Scenari Quindi Ragazzi Trolle Biglietti aerei Si va Dove si fa festa Quella volta lì Durerà una settimana 15 giorni 3 mesi 1 ora Però Deve rimanere Localizzata In un ambito Spaziale E temporale Io Conto magari Di prendermi Un gatto Prima o poi Però Sicuramente Non una fidanzata Quindi Mettiamoci pure Una pietra sopra Ragazzi Vi saluto Buona fortuna Ma noi ci consoliamo Così Con La cioccolata Che qui non manca Fa freddo Quindi Giù di cunesi Questi sono I cunesi migliori Che potete trovare Andate di cunesi al cioccolato E lasciate stare I cunesi normali Perché Chi lo conosce Lo evita E con questo Concludo Ciao Mua 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 Grazie per la visione!